Se non volete sentire parlare sempre dei soliti manga, anime, film del cazzo, tette e culi, ma di qualcosa di un po' più interessante, beh, questo è il canale che fa per voi. Ma diamo il benvenuto! Buongiorno cucciolotti! Vi ricordo, teste di cazzo, che quello che vi sto per leggere lo trovate sul libro di Fede che si trova su Amazon a due spiccioli, che costa 2 euro, 3 euro, è per ora versione Kindle, lo si legge bene, è roba figa, molto veloce, non è un romanzo, non vi chiede chissà quale attenzione, ne leggete una ogni tanto e vi fate due risate. Quello che fa la differenza è la recensione. Bando alle ciance, partiamo con l'argomento di oggi che sono le curiosità sui personaggi storici. Let's fucking go! Il nostro primo soggetto è lo Tsar, Pietro I, il Grande. Durante la sua sontuosa campagna di svecchiamento e modernizzazione dello Stato russo, mi sa che non gli è riuscito molto bene alla fine della festa, considerato arretrato a confronto delle potenze europee, nel 1698 impose a tutta l'aristocrazia di radersi la barba, simbolo della vecchia tradizione, pena il pagamento di una tassa appositamente approvata. Lui stesso rase alcuni dei suoi dignitari sopra un pubblico patibolo per le esecuzioni usando un'ascia. Sì, è vero. Sottolineando con quel poco velato simbolismo la serietà delle sue intenzioni. Eh, praticamente, sì, fa ridere, però è vero, cioè, Pietro appunto venne detto il Grande, no? Perché praticamente riuscì ad apportare quelle migliorie alla Russia, che poi sostanzialmente erano degli svecchiamenti, per renderla al pari delle grandi potenze europee, che lui riteneva tecnologicamente e culturalmente superiori alla Russia del tempo, no? E come se ne rese conto? Praticamente fece un tour dell'Europa a livello formativo, come usava molto, no? Avete presente l'idea di, a volte si vede nei film o nei libri, il nobilotto che si va a fare il tour in Europa, no? Parigi, Berlino, per trollare, no? Per conoscere il mondo. Soprattutto veniva fatto sul versante americano. E lui visitò la Francia, l'Italia, la Spagna, il Belgio, e disse, ma noi siamo all'età della pietra, no? E quando poi, insomma, divenne zar, decise che avrebbe reso la Russia al pari, no? E quindi cosa fece? Iniziò ad assumere ingegneri, architetti, edili, scienziati, filosofi, da tutta l'Europa, strapagandoli per farli venire in Russia, no? E permettere ai russi di usufruire di questa nuova ondata di conoscenza. Dall'altro canto lui aveva la resistenza dell'aristocrazia russa, no? Certo, che lì voleva rimanere. Esatto, no? E il simbolo di questi, diciamo, dell'oligarchia russa, della vecchia tradizione in particolare, era appunto la barba lunga. E lui a livello simbolico cosa disse, ovviamente? Allora, o mi paghi una tassa sulla barba che te hai, tassa a caso, stratosferica, o se non te la devi tagliare. Cioè, proprio un processo di svecchiamento, no? Fu uno dei pochissimi casi, in realtà, nella storia moderna, in cui un regnante forzò, effettivamente, i suoi più grandi sostenitori, perché poi si parla dell'aristocrazia, a fare un qualcosa molto controvoio, no? Per far vedere che non scherzava più di tanto. Ma tagliamo la barba con un ascio sopra il patibolo dove si taglia le tessite. Esatto, no? Cioè, questo pezzo dove lui con un'ascia radeva i suoi dignitari su un... E tra l'altro questo potrebbe anche, in realtà, essere vagamente considerato... cioè, vagamente. Collateralmente essere considerato parte anche della rubrica che abbiamo fatto la scorsa volta, quella sui primati storici, perché è una delle tassazioni più assurde di sempre. Ce ne sono altre. La tassa sulla barba. La tassa sulla barba. Poi c'è anche una tassa, venne messa più o meno nello stesso contesto storico, sulle finestre e sui caminetti delle case. Quindi, andando a giro per le corti dell'Europa dell'epoca, per le corti, per le città, voi avreste potuto vedere, in via teorica, le persone che muravano le finestre e le porte delle case. Perché ne vanno troppe? E i cammini per pagare meno. Ok? Quindi, tipo, gente che si teneva solo una finestra, gente buttava giù il cammino a martellare. Cioè, proprio la follia è più totale. E siamo a livelli della tassa medievale sulla polvere che alzava il carro passando sul terreno. Tasse per ogni cosa. Tasse per tutti. Diciamo che noi ci lamentiamo in Italia, ma non è che c'è cambiato tante le cose. Sì, oddio, noi siamo un po' indietro. Sì, forse, sì. Però, brazzo, va bene. Fa per dire. Allora, numero 7. L'imprenditore Vespasiano. L'imperatore. L'imprenditore. Vespasiano. Promossa nel 70, quindi si parla del 70 dopo Cristo. Una tassa, appunto, sull'urina raccolta nelle latrine di Roma. Un po' imprenditore era questo. Un po' un imprenditore, sì. Alle lamentele del figlio Tito, che lo rimproverava per lucrare sulle deiezioni del popolo, oggettivo direi, Vespasiano lo convocò per chiedergli di annusare alcune delle monete ricavate da quella tassazione, domandogli che odore avessero. Quando Tito rispose che non ne avevano alcuno, Vespasiano sentenziò Pecunia non olet. Il denaro non puzza. Esatto. Monete pisciate, no? Dovete capire che non è una tassazione a caso, eh, per il tempo. Cioè, l'imprenditore Vespasiano, praticamente, cosa fece? A Roma c'era un fiorente commercio, diciamo così, sull'urina raccolta nelle latrine pubbliche. Come sapete, a Roma c'erano le latrine pubbliche. C'erano quelle da Pezzenti, quelle da Signori e tutto il resto. Quest'urina dei bagni pubblici veniva poi riutilizzata per conciare le pelli. Ma te ci pensi a... Madonna, mi viene il vomito. Te ci pensi a... No, no, mi viene la vomita. E quindi disse, ascolta, diamo un po' un'occhiata a Libri Mastri, no? Quanti soldi si fa? Quanti soldi girano nella concia delle pelli? E disse, sai che c'è? Tasta a cello sulla piscina. Io tasso sti stronzi, perché alla fine questi che fanno? Vanno in recessi pubblici, prendono l'urina, la vendono e non ci prendiamo un cazzo. Questi fanno gli strasoldi, no? E quindi semplicemente il figlio si incazzò e disse, ma scusa, ma siamo dei pezzenti? Cioè facciamo schifo, no? Che tassiamo il piscio delle persone? E poi il fiume d'oro che seguì a questa tassazione, lui chiamò il figlio a corte e gli disse, ma a non so questa moneta. Queste puzzano? Lui a non so e fa e no. E vedi, perché l'oro non puzza, cioè i soldi non puzzano, non hanno odore, no pecuniano, no? Anche se arrivano dal... Anche se arrivano da Cessi. Va bene, nostro padre Vespasiano. Allora, la legge romana prevedeva, appunto sempre in Roma siamo, la confisca automatica dei beni di qualunque condannato a morte per crimini gravi. L'unico cavillo per sottrarsi al sequestro consisteva nel commettere suicidio prima che la sentenza venisse ufficialmente pronunciata. Di questo espediente si avvalse largamente anche l'imperatore Nerone con i propri dissidenti. Inviava un centurione a comunicare la notizia in modo ufficioso, quindi aum aum, assicurando che la sentenza sarebbe stata presto pronunciata. Quindi al condannato non restava altra scelta che togliersi la vita di suo pugno. Si voleva avere la garanzia che almeno i suoi beni restassero ai familiari. Esatto. Quindi un modo praticamente Nerone dice questa è la legge ce la faccio io la legge intorno mi stai sul cazzo ti venga a dire che fra un po' ti togliamo tutto così ti nevi dal cazzo. E' se ci pensi più o meno un po' collateralmente anche la stessa strategia però per motivi etici che si utilizzava durante l'età dello shogunato in Giappone sul discorso dell'onore contro i samurai. Ok. Cioè se disonorato il samurai doveva commettere seppuku. Ok. A Roma come funzionava? Questo in realtà era un cavillo. Da essere un'ulteriore punizione per i criminali gravi ok a Roma diciamo il crimine grave era considerato la diserzione il l'omicidio l'ignominia però verso i dignitari e tutto il resto come ulteriore misura cioè per colpire per estensione anche la famiglia no in modo che il ladro non avesse modo di poter lasciare ciò che aveva rubato alla famiglia divenne in realtà un espediente un escamotage che gli imperatori usavano e non solo gli imperatori per non sporcarsi le mani nella rimozione di personaggi scomodi in particolare Nerone lo utilizzò diverse volte e con questo espediente ammazzò anche se è un po' trichi da dire perché non non è mai confermato il discorso però che successe per esempio il filosofo Seneca si suicidò come tutti sappiamo però si suicidò perché perché Centurione andò lì e gli disse guarda la corte la tua figura è mal vista non piaci più all'imperatore ti trova scomodo e quelli erano veramente tempi dove a corte cioè se ridevi o meno non si sta scherzando se te ridevi o meno alle battute di Nerone ti ammazzava cioè poteva fare differenza nemmeno fra fortuna e rovina fra vita e morte quindi lui faceva tutte le sere sti cazzo di sontuosi banchetti dove si mangiava da fa schifo si beveva lui pensava ad essere un cantante lirico si 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 era fissato che era erede dei greci con la cetra allietava il suo pubblico cantando di merda no e ovviamente tutti dovevano stile Kim Jong-un non semplicemente plaudere proprio cioè strapparsi di nostra emozionarsi impazzire no dare di matto proprio per l'entusiasmo di lui che cantava se no andava a finire di male in peggio cioè male nel senso ti rovinava peggio morivi tra l'altro uno dei molti noi suoi favoriti per eccellenza che era Petronio un altro letterato di spicco incredibile che per tantissimo tempo ha avuto modo di godere dei favori di Nerone sia Petronio che poi Seneca alla fine vennero ammazzati da queste scamotaggi no e come funzionava centurione o un messo imperiale andava a casa dell'incriminato e gli diceva guarda l'imperatore è in procinto di emettere una sentenza una condanna ai tuoi confronti no una condanna di morte quindi sistema i tuoi affari così no e chiaramente poi il malcapitato se aveva la famiglia succedeva che si ammazzava così almeno ciò che aveva fatto ciò che aveva restava la famiglia perché se no lo Stato confiscava tutto qui cambiamo totalmente argomento e passiamo a un pirata che io non conosco ah bellissimo si 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 no lui è un favoloso il leggendario pirata gallese Harry Morgan Harry Morgan ciò che cazzo è chiunque io no diventato poi governatore della giamaica all'apice delle sue conquiste ok morì a Port Royale nel 1688 quindi nel 1688 e mi è venuta da leggere 1680 mi è venuta da leggere la mariana 1680 fa dice che cazzo dice mi è venuta non so perché e venne sepolto nel cimitero di Palisadoes quattro anni dopo un terremoto fece sul ma come ma che sfiga fece sprofondare Port Royale sotto il livello del mare insieme alla sua tomba dall'altro dove avete sentito il nome Port Royale Pirati dei Caraibi oh ok ok esatto allora Harry Morgan che neanch'io anni fa conoscevo lo conobbi in questo modo stupido eravamo tra l'altro c'era anche il Maze a una gara a un'esibizione di motocross e tra le varie figure che facevano questi motociclisti saltando sul trampolino dell'evoluzione insomma ce n'era una dove montavano in piedi sul sellino col piede destro sul manubrio e poi si mettevano in questa posizione no e lo speaker che insomma commentava le evoluzioni diceva la figura si chiamava un saluto al capitano Morgan e diceva chi cazzo è capitano poi ci pensavo magari è un c'è un pilota della madonna ci pensavo ci pensavo non mi veniva in mente alla fine ho detto boh sicché scrivo capitano Morgan su google mi esce tipo una birra delle cazzate a un certo punto mi esce sta tizia Harry Morgan e se ne andate a leggere è praticamente il padre di tutti i pirati cioè il pirata proprio che ha ispirato la figura del pirata così come è entrata nel folklore comune pensate che è un pirata cioè uno che ci ha creduto cioè che non ha mai smesso di sognare ci ha creduto e ce l'ha fatta esatto lui prima si è imbarcato ha fatto il mozzo cioè ha fatto il cursus sonorum del pirata no? poi che è successo? che era talmente ingestibile che rubava tutto ammazzava tutti saccheggiava tutto che alla fine venne assoldato come corsaro no? perché qua è la differenza tra pirata e corsaro che il corsaro è al soldo di una corona cioè è un pirata di cui uno stato non si vuole liberare gli dicono guarda ascolta siccome lo so che te purtroppo ti eri il cazzo duro a saccheggiare uccidere fare cose facciamo una cosa lo fai però non lo fai a me cioè ti pago lo fai a tutti gli altri ma non a me ok? te continua a fa quello che fai dove sei però se vedi le bandiere del mio paese su questa nave te evita e fa la finita no? e che è successo? che Harry Morgan venne assunto in realtà come corsaro da diverse corone però vabbè lui non gli fregava un cazzo quindi alla fine era talmente matto che spugnò la Giamaica tra l'altro con manipolo di stronzi proprio cioè gli dissero mi sembra addirittura di non attaccare il porto e lui lo fece uguale cioè tipo in porta a una sega sì in porta a una sega poi sì che venne messo come governatore della Giamaica l'amministrò un po' come cazzo veniva poi continuò a saccheggiare lo stesso non gli serviva più ma lui continuava alla fine gli dissero guarda la fai finita perché se no ti levo il protettorato perché mi hai rotto il cazzo e lui continuò a continuare alla fine era impazzito quindi vabbè morì di un malaccio a caso ma il folklore cioè la cosa bella diciamo a livello di flavor è che lui morì venne sepolto nel cimitero e poco tempo dopo arrivò un maremoto che sommersi anche la sua tomba cioè praticamente è finì sott'acqua quindi è tornato al mare esatto cioè un po' il folklore di questa cosa qui però a rimorga ragazzi è il signore dei pirati diciamo così andiamo avanti cambiamo epoca storica andiamo da Federico secondo di Savoia che nacque di Svevia di Svevia oggi si si va è l'imprenditore vespasiano Federico di Savoia che nacque il 1194 e morì nel 1250 uno dei monarchi più poliedrici della storia era famoso per la sua curiosità scientifica cui non di rado concedeva strani esperimenti uno di questi fu crescere alcuni infanti tenendoli separati da tutto e da tutti ma questo non è nemmeno il peggio dando ordine alle balie di allevarli senza mai dir loro una parola e ne emettere alcun suono l'intento dell'imprenditore dell'imperatore cioè con l'imprenditore si è così con l'imperatore sei rimasto a quello a chiuso le sale l'anno esatto era di scoprire quale lingua avrebbero parlato i bambini una volta cresciuti se quella della creazione l'aramaico oppure il latino il greco o l'arabo e il risultato quale fu? secondo voi quale fu il risultato? che diventarono totalmente imbecilli e non parlarono inventarono una loro lingua parlavano a gesti cioè lui pensò cosa parlerà un essere umano a cui non viene insegnato in nessuna lingua ok io lo allevo senza madre lontano da tutto e da tutti senza nessun contatto umano si è ammazzato morirono tutti perché grazie a cazzo ma perché perché questa è stata in realtà molto precoce però è stato dimostrato che le attenzioni della madre cioè i i vezi le carinerie il contatto anche emotivo della madre sono fondamentali ma non fondamentali per il buono sviluppo fondamentali per la sopravvivenza del bambino no? tra l'altro lui era originario di Iesi che è un paesino nelle nelle Marche c'è anche una statua mi pare da qualche parte però vabbè ne fece anche altre in realtà tipo se io mi riposo dopo pranzo digerisco meglio ok quindi cosa fece fece due condannati a morte li fece mangiare li fece pranzare uno lo fece riposare e l'altro no poi l'ammazzò e li sbuzzò tutte e due e si vide che quello che aveva dormito aveva digerito meglio ok oppure ma l'anima si vede quando uno muore si vede ah che succede prende un tizio un condannato a morte quindi è meglio non essere condannati a morte quando c'era Federico II però va bene lo chiude in una botte l'ammazza e poi in questa botte c'era un foro un foro sul sul tappo superiore e stavano tutti lì così a guardare che praticamente si usciva l'anima lui è stato cresciuto è arrivato da un grandissimo papa dichiaratamente anti ecclesiastio cioè volevano per forza che lui facesse la crociata invece cioè a rota tipo te devi fare una crociata devi fare una crociata e lui invece che si scriveva le letterine su come fa la caccia al falcone col sultano poi venne scomunicato disse si si ora vado poi no mi è venuta la febbre non vado si è scomunicato tre volte è una roba incredibile però vabbè comunque era è stato un personaggio molto controverso tra l'altro lui ha reso Palermo effettivamente forse uno dei centri mondiali di cultura per il tempo ed è fatto anche da precursore per il mi chiama Lemmo esatto per la creazione del volgare questo potrebbe orientare di diritto in una dei più grossi allachi della storia il 21 giugno 1791 nel piano della rivoluzione francese l'allora monarca Luigi XVI tentò la fuga da Parigi insieme alla moglie Maria Antonietta e ai figli ma venne bloccato e catturato a Varenna a smascherarlo e denunciarlo fu il direttore di una stazione di posta che ne riconobbe il volto dalle monete si si questo è un bel unlucky pensate oggi una cosa del genere sarebbe impossibile perché comunque con i media e tutto c'è chiunque conosce il volto di Draghi per esempio invece al tempo voi pensate si è il re del tuo insomma ma sai un cazzo come è fatto sei solo suddito però non hai detto che tu sappia come è fatto e praticamente questo mastro di posta che è il direttore della posta quando si vede arrivare la carrozza con Maria Antonietta e lui e i figli sopra praticamente era lì e si accorse dalle monete dall'erfice che c'era al suo volto ma cazzo ma questo è quel bastardo quindi lo denunciò ai gendarmi che lo portarono via di nuovo a Parigi cioè questo era partito veramente come un ladro durante la notte con la carrozzina c'era la fuga e poi fermato da un stronzo a caso che si mette la mano in tasca magari per pagarsi non so non si può dire e allora lì guarda e poi lì è andata così però non si può stare allora andiamo avanti questa è molto curiosa nel dodicesimo secolo le corti dei regnanti europei vennero scosse da una lettera scritta da un certo prete Gianni bellissimo il prete Gianni e indirizzata a Manuele I comneno imperatore di Bisenzio 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 e campi Bisenzio sì infatti nella missiva il mitico personaggio si presentava come prete e re dell'impero più grande esistente al cui interno radunava creature magiche luoghi miracolosi e ricchezze di ogni sorta talmente munifico da avere come suoi sottoposti altri re e nobili potentisti conosciuti agli occidentali il fantomatico regno di prete Gianni che poi sembrava un nome presa per il culo probabilmente è ok lo era si sarebbe trovato nel profondo est molto più là di Bisenzio oltre qualunque terra conosciuta l'immaginario europeo ne venne talmente solleticato che lo stesso Alessandro III l'allora papa scrisse una lettera al prete Gianni nel 1177 senza però riceverne alcuna risposta esatto allora se qualcuno di voi ha letto cose comunque praticamente il prete Gianni è un personaggio che ricorre molto spesso in realtà cioè in videogiochi libri citazioni musica perché è stato un po' un folklore importante questa stronzata che può sembrare a noi immediata della lettera che arriva a corte di presentazione di questo prete Gianni in realtà al tempo venne presa molto seriamente perché poi non arrivò una persona a caso arrivò all'imperatore di Bisanzio arrivò al papa arrivò si dice ai più grandi monarchi d'Europa e diceva addirittura che avesse accanto a sé due troni uno per l'imperatore di Bisanzio cioè in realtà per il per il basileo e una per il papa ok per quando in un futuro nel suo ideale fossero andati a rendere gli omaggio Alessandro papa provò a rispondergli dicendo che se avesse voluto gli avrebbe inviato uno dei suoi legati cioè uno dei suoi emissari perché pareva che questo prete Gianni fosse nestoriano quindi comunque cristiano però un dissidente cioè e praticamente poi lui non ricevette mai risposta però sempre per rimanere che pensava lo stronzo che ha detto ma sai cosa faccio oggi io scrivo una lettera e trollo io scrivo una lettera e trollo tutti eh ma l'ha trollati perché cioè al tempo e lui era di Corbinelli se la godeva lo stesso mi sembra Federico Barbarossa prese seriamente in considerazione l'idea di stringere rapporti col prete Gianni per poter mettere da parte il papa dicendo eh se io sono col prete Gianni il papa me lo puppa no perché cioè tanto che cazzo mi tocca per una lettera per una lettera perché era stata scritta in un certo modo era chiaramente opera di una cancelleria no al tempo usavano le cancellerie questi uffici diciamo di funzionari atti a redigere e preparare lettere in un certo modo se qualcuno di voi ha mai frequentato un corso di storia sa di cosa parlo no il modo in cui sono scritte cioè sono inequivocabili trollò tutti davvero cioè le persone pensavano che esistesse questo prete Gianni e ci fu una corsa dei monarchi per cercare di avere risposto da lui per raggiungerlo per dire sì lo vogliamo come il nostro alleato no e ovviamente il papa vedeva in prete Gianni la personificazione della vittoria finale cioè un prete va bene quindi un cristiano che regna su un impero sconfinato quindi attenzione superiore all'imperatore ok in autorità e che raduna sotto di sé delle minoranze religiose cioè quindi musulmani ebrei cioè era la vittoria prete Gianni per la chiesa no e il papa avrebbe cercato nel suo ideale di trascinarlo sotto di sé cioè convincerlo che la sua fede nestoriana non era buona tanto quello cattolico e addirittura prete Gianni tra l'altro venne nominato anche nel milione di Marco Polo dove però viene citato come un personaggio storico realmente esistito che era però stato sconfitto da Kublai Khan cioè l'attuale Khan di quando c'era Marco Polo si dice che avesse sconfitto effettivamente questo prete Gianni che aveva un regno enorme e cose nessuna creatura magica né niente strano però l'aveva sconfitto e si diceva che questo prete Gianni in realtà fosse un barbaro cioè Marco Polo descrive come un barbaro che ammazzava per chi doveva esaltare il Khan no? quindi andiamo avanti cambiamo e andiamo a leggere di una delle persone che io ho odiato di più nella mia intera esistenza penso tanti probabilmente se ho capito il filosofo tedesco Immanuel Kant chi è che noi ha dato un po' di odio? uno dei massimi esponenti dell'illuminismo attivo intorno alla metà del diciottesimo secolo era rinomato per la sua straordinaria abitudinarietà ai giorni d'oggi probabilmente gli avrebbero riscontato qualche forma di agismo esatto qualche disturbo pervasivo si racconta che gli abitanti di Kon Koenig Koenigsberg la città dove il filosofo trascorse la sua intera vita regolassero l'orologio in base alle sue passeggiate pomeridiane Kant era un personaggio curioso che tutti noi abbiamo odiato dal profondo di noi stessi no? almeno chi ha studiato filosofia chi ha avuto filosofia ragazzi cioè la critica della ragion pura è veramente ma la merda e poi non te lo levavi mai dal cazzo no 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 nel mio libro erano cento pagine cento pagine di Kant che poi dopo perché lui si rifà a Kant per si riferiva da Kant hai rotto il cazzo Kant facevi cacare basta andiamo avanti no è vero non faceva cacare la merda di Kant è stato un cazzo di genio però e tra l'altro si diceva che lui avesse questo comportamento estremamente ridondante no? e che gli abitanti della città cioè mettessero l'orologio sulla base della sua camminata che faceva sempre nel parco sempre alla stessa ora e vi faccio notare che Kant è stata una di quelle persone che successivamente è stata tacciata accusata di servilismo nei confronti dello Stato perché è convinzione diffusa anche tutt'oggi che l'intellettuale di spicco debba in qualche modo misurarsi con lo Stato cioè debba arrivare per forza a scannarsi con lo Stato per il suo ideale e per tutto il resto e lui praticamente ebbe solo una critica dallo Stato per una cosa che aveva scritto sulla politica ma lui proprio evitava sempre di parlare di politica appena glielo fece notare lui disse no scusatemi sono sbagliato cancellò tutto vaffanculo cioè proprio non voleva cazzi Kant no? però è stato un grandissimo pensatore al punto che una delle sue critiche geniali permettete fu dal punto di vista fisico cioè scientifico no? che a un concilio in cui lui venne invitato dove c'era tutti i grandi studiosi dell'epoca si discuteva sulla possibilità che la Terra esistesse da sempre no? cioè l'universo esiste da quando? qual è l'età dell'universo? da sempre lui alzò la manina e disse scusate ma se l'universo esistesse da sempre avrebbe già raggiunto l'equilibrio termico no? tutto avrebbe la stessa temperatura perché non è ancora successo? e tutti cioè noi in realtà l'abbiamo studiato controvoia come si studia un sacco di roba controvoia a scuola purtroppo ed è un po' anche una sfiga che la scuola sia pensata in questo modo qui però a livello oggettivo se uno si documenta un po' improprio su Kant è stato un grandissimo pensatore cioè ha veramente fatto la differenza e vi leggo quest'altra Alexandre ma no? francese quindi puzzava quindi puzzava sì 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 il celebre scrittore del diciannovesimo secolo tra i cui capolavori si annoverano 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 va bene il conte di Conte Cristo e i tre moschettieri tutti per uno uno per tutti era intimo amico in che senso e ammiratore di Garibaldi cioè se lo strocchiavano l'imprenditore di Conte Cristo l'imprenditore di Conte Cristo bravo la combo on point oltre a finanziare la spedizione dei mille nel 1860 stavo rileggendo 1860 vabbè se ne frega va bene uguale alla fine con uomini armi e mezzi cioè era così Alexandre Mada aveva uomini armi e mezzi da zare li pagava ah ok prese personalmente parte alle opere di propaganda dei Garibaldini fu spettatore della battaglia di Calatafimi o Calatafimi come si legge Calatafimi e ricoprì l'incarico di direttore dei musei di Napoli sul nomina di Garibaldi stesso si si praticamente era lui era molto coinvolto su diciamo sul discorso di Garibaldi lo adorava erano ottimi amici no a un certo punto tra l'altro dopo lo sbarco dei mille Garibaldi gli disse oh Alex chi si è messi alla canna del gas cioè bisogna che tu mi torni a Nizza prende i fucili e lui disse e dov'è il problema andiamo prese la nave andò a Nizza a Marsiglia scusate gli prese i fucili e gli riportò con la nave cioè avendo la nave non era però questo era un soggettone voglio dire era uno appassionatissimo e tra l'altro scrisse anche una lettera non mi ricordo qualcosa scrisse comunque appunto però dopo aver assistito alla battaglia di Calatafimi si fece proprio il tour bellico cioè seguì i mille durante la riscalata dell'Italia e per un po' ricoprì anche l'incarico di direttore dei musei di Napoli dove lo mise lo stesso Garibaldi finché i napoletani dissero però questo stronzo pezzo di merda bastardo francese no francese è romano infatti i napoletani lo mandarono a fare in culo i nostri fratelli napoletani e lui se ne tornò in Francia un po' un po' un po' di cazzetto sulla bocca però sostanzialmente era è stato anche lui c'era un scrittore famosissimo lo conosceva tutti lui si diceva che passasse 16 ore al giorno a scrivere cioè 16 ore al giorno non faceva altro allora una delle figure più importanti della storia della medicina è certamente quella di Galeno un medico romano vissuto a cavallo cioè nel senso lui era solo col cavallo sul cavallo tra il primo ed il secondo secolo dopo Cristo che influenzò enormemente il pensiero scientifico antico con le sue teorie oltre ad essersi occupato di anatomia e fisiologia nelle redazioni di una produzione retteriaria davvero monumentale fu prima medico dei gladiatori fiero cioè era il medico sportivo dell'epoca in pratica sì ma c'erano diversi medici che seguivano i gladiatori e non solo uno e poi medico di corte dell'imperatore Marco Aurelio con il quale amava intrattenersi dissertando di filosofia ciao fili divertitevi perché è bellissima Firenze una città di merda ma andiamo avanti parliamo di Galeno ah Galeno semplicemente ragazzi è stato un po' nostro padre per poi per il motivo che vi dirò no? lui appunto nacque come medico e c'era la convinzione al tempo quindi età romana che il medico si dovesse intendere di filosofia il medico doveva curare anche l'anima in modo a caso un po' così no? però lui si fece le ossa diciamo così facendo il medico dei gladiatori poi si occupò durante tutta la vita della redazione di questi trattati di anatomia e fisiologia che sono impressionanti cioè ne scrisse un numero incredibile tant'è che quello che aveva detto Galeno iniziò a essere contestato soltanto secoli più tardi in modo molto cauto cioè sempre cauto era considerata l'eminenza assoluta della medicina e della fisiologia Galeno e che successe che poi divenne l'imperatore sì l'imperatore magari per lui fa lo stronzo divenne medico di corte dello stesso Marco Aurelio l'imperatore chiamato il filosofo l'imperatore illuminato si diceva che è come vi ricorderete anche nel film il gradiatore cioè il padre di Commodo che invece è stato il più bastardo del mondo ricordi si intratteneva con questo Marco Aurelio parlando di filosofia perché entrambi piaceva la filosofia poi che successe che a un certo punto partì la campagna militare e Marco Aurelio gli disse ascolta bisogna che tu venga a me e lui eh sì andiamo no che partono vando su e lui fa ma io qui io muoio poi la partita tipo l'epidemia di peste no sicché c'è ingestibile probabilità c'è vita 10 galeno 0 e lui fa ma almeno devo tornare a Roma devo farmi cazzina per forza sicché si svia una mattina va dall'imperatore e gli fa oh è successo un casino e Marco Aurelio gli fa che c'è dimmi tutto e ho sognato Esculapio Esculapio è della medicina no ho sognato Esculapio e mi ha detto che devo tornare a Roma per forza e Marco Aurelio ma come devi tornare a Roma sì sì no per forza devo tornare a Roma non c'è verso devo essere lì lo so e lui fa eh vabbè è sognato Esculapio torna a Roma e lui buona ciao bimbi cavallino na 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 Roma e si mette a scrivere trattati di medicina cioè proprio gli importava una sega carriera fulminante morto nel vignetino mentre scrive cazzo mi ne frega il galeno ragazzi della guerra di Marco Aurelio sì no vaffanculo ragazzi vaffanculo tra l'altro dice Stark che è studente di medicina conta che i cinque segni dell'infiammazione che studiamo oggi sono ancora attribuiti al galeno appunto vedete cioè sono incredibili ha fatto un lavoro allora e qui cambiamo totalmente versante ed epoca il buon toro seduto questo è ganso il leggendario capo tribù Sioux passato alla storia per aver sconfitto l'allora colonnello Custer nella battaglia di Little Big Horn quindi grande corno dopo la sua resa al governo statunitense 1881 si unì nel 1883 al Wild West Show l'esibizione cinese di Buffalo Bill no che cinese circense di Buffalo Bill eeeh i cinesi avano già tutto compravano già tutto ragazzi veniva pagato 50 dollari a settimana più un dollaro e mezzo per ogni foto autografata minchia un business una madonna dopo quattro mesi tuttavia fece il ritorno nella sua riserva indiana nel Dakota dove morì assassinato insieme al figlio dagli agenti di polizia locale nel 1890 che successe che Toro Saluto era considerato un criminale di guerra perché aveva ucciso il generale Custer ok e i suoi uomini sulla nella battaglia che poi è famosissima di Little Big Horn che successe che poi incarcerato venne tipo segregato nelle riserve e Buffalo Bill personaggio molto curioso mi sembra Buffalo Bill militò per un po' ma poi era già civile poi venne decorato al valore per una cosa che fece da civile ok a cui però non assistete nessuno però vabbè non importa fatto sta che lui mise in piedi questo show circense molto popolare all'epoca che si chiamava il Texas Wild Show Wild West Show tipo quindi andavano in giro facendo sempre questo spettacolo di merda fatto sta che poi raccio lui si vede che non era cioè pensate veramente da ex capo tribù a pagliaccio a ferramano a maraccone in giro con la gente che la additava cioè era una roba orribile vabbè dopo qualche mese lui si ruppe il cazzo e se ne tornò nella riserva indiana dove ovviamente era mal visto dai vecchi compagni tribù per quello che aveva fatto perché chiaramente si era prestato ai soprusi dell'uomo bianco e soprattutto all'essere ridicolizzato e praticamente in uno stile permettetemi un po' statunitense controllo della polizia a caso alla riserva indiana bianco 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 fine della festa la democrazia americana non ha confini allora questa è una curiosità particolare direi che riguarda una figura una donna molto importante Caterina seconda la grande la grande ispiratrice di va bene ne parleremo dopo l'imperatrice di Russia meglio nota come Caterina la grande è famosa per aver avuto moltissimi amanti più di 21 nei suoi 34 anni di regno dal 1762 al 1796 era solita assegnargli una pensione delle concessioni territoriali quando perdeva l'interesse nei loro confronti e talvolta persino incarichi di rilievo politico questa sua passione per le attività amorose scopare venne esasperata dal folclore successivo tanto che si diffuse la leggenda secondo cui Caterina sarebbe morta per emorragia interna dopo aver avuto un rapporto sessuale con uno stallone usando un curioso sistema di carrucore esatto questo è vabbè è un come si dice una leggenda si un folclore un tentativo di diffamazione non una piccola damnazio memoria pensate che il suo più grande amante cioè l'amante che lei che è stato più importante per lei prometteva al cazzo di almeno 25 cm no 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 perché dopo un po' comunque finì e lui cosa faceva cercava a lei nuovi amanti ah era il procuratore di scopamici no 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 lui era il generale Potjonski ah la cornazzata esatto quindi era proprio vabbè personaggio in vista politicamente e tutto il resto non lo rese lei così in vista lo aiutò poi comunque era un personaggio molto già molto potente all'epoca e lui si preoccupava in caso di insomma qualche amante io lo presentò lui cioè persone proprio selezionava persone che avessero che non fossero in grado di annoiarla no quindi persone interessanti belle non persone che diranno il cazzo e basta lui capiva che la zarina aveva certe necessità se trovava un giovane volenteroso diciamo puoi scopare la zarina e poi era famosa perché poi diceva oh ma hai rotto il cazzo però tieni esatto cioè li mandava in pensione in un certo cioè quando si rompeva il cazzo gli dava solitamente soldi c'era anche una formula più o meno sempre efficace tipo soldi terreni e roba ma a volte anche incarichi di rilevo politico piaceva creare una storia prescopata sì era come i porno esatto il filmino erotico marcio poi lei fu una grandissima imperatrice di Russia per l'amor di Dio però era il vizietto di essere trombata ma faceva bene ma faceva bene con tutto il potere ma ovviamente infatti Caterina per moltissime donne rappresenta un esempio di emancipazione dell'universo femminile faceva il cazzo che gli pareva va bene qui andiamo in tempi molto più recenti quasi contemporanei il 23 luglio del 1939 l'attivista indiano Mahatma Gandhi scrisse una lettera ad Adolf Hitler implorandolo di scongiurare l'avvento di una nuova guerra mondiale che avrebbe gettato il genere umano in uno stato selvaggio il suo accorato appello all'umanità non raggiunse mai il cancelliere tedesco la lettera venne bloccata dal governo britannico non tutti lo sanno ma Gandhi provò a scrivere a Hitler cioè gli scrisse una lettera dove faceva appello accuratamente a questa sua umanità chiedendogli che non che desistesse no? come insomma la parola è descalation che adoperasse una descalation nei confronti dell'Europa e della vicina Polonia per non far precipitare il mondo nel caos e uno dice va bene cioè è arrivata la lettera che ne so la cancelleria tedesca l'hanno cestinata no no cioè la presero gli inglesi e non dissero nulla e non dissero un cazzo cioè proprio perché ovviamente era proprio l'epoca di guerra aperta tra inglesi e metaforicamente guerra aperta tra inglesi e Gandhi e quindi semplicemente quella lettera non venne mai recapitata no? va bene andiamo verso la fine ragazzi eh il leggendario Napoleone Bonaparte generale francese non era affatto basso secondo fonti storiche misurava circa 1,68 quindi un nano addirittura qualche centimetro in più della media del tempo il luogo comune della sua presunta bassa statura trova radici in alcuni fatti correlati alla sua figura come il soprannome con cui era conosciuto le petit caporal che non aveva niente a che fare con la sua statura ma con la sua giovane età e la scelta della sua guardia personale i cui membri venivano selezionati in base all'altezza esatto infatti questo per esempio prima delle curiosità di cui vi parlavo prima c'è dei falsi storici che Napoleone non è vero che era basso cioè che sia facile o meno da accettare però non è per niente vero vabbè 1,68 sei basso abbiate pazienza un'altra figliata ma non per la media del tempo siete diversamente alti cioè abbiate pazienza 1,68 ma se sei 1,68 sei basso ma non per la media del tempo andiamo sull'ultima dai l'ultima curiosità tra l'altro del format e del libro 150 verso la metà del dodicesimo secolo re Naratu di Birmania beh il nome del tempio è impronunciabile quindi leggi solo la seconda no lo leggerò ordinò la costruzione del tempio di Tamayangi Pachto 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 a Began come espiazione per il crimine di aver assassinato il padre ed il fratello per assurgere al potere Naratu pretese che il tempio venisse realizzato incastrando i mattoni tra di loro in modo perfetto senza l'uso di calce né malta talmente aderenti da non permettere neanche il passaggio di uno spillo durante i lavori verificava personalmente con un ago che ogni mattone fosse posizionato in modo impeccabile i muratori sorpresi a commettere un errore venivano puniti con l'amputazione della mano destra beh questo è totalmente fuori di cervello questo vabbè praticamente voi pensate che c'è questo tempio eletto da questo imperatore Naratu questo re Naratu che un bel giorno disse sai che c'è io vorrei tanto essere re però il re è ancora vivo e è mio padre prima di me nella linea di successione c'è il mio giudatello l'ammazzo sai che si fa l'ammazzo tutte e due le ammazza tutte e due però mi sento in colpa cioè questa cosa potrebbe sfavorirmi nei confronti degli dei quindi facciamo una cosa facciamo un tempio ma facciamolo pazzo cioè lo voglio fatto senza calce senza malta non me ne frega un cazzo no quindi si mettono lì mattone per mattone e doveva essere raga perfetto perché se no non ci stava cioè pensate al vento alla pioggia no l'aderenza tra le superfici dei mattoni doveva essere impeccabile lui cosa faceva andava lì ai lavori con uno spillo e ogni mattone che mettevano lui si metteva lì con lo spillino e guardava se passava se passava tagliava la mano al muratore no e vi dirò di più ho visto una foto ho visto una foto della pietra su cui tagliavano il braccio ai muratori cioè sta pietra dove c'è due buchi da una parte e due dall'altra per la fascia di ferro che mettevano per bloccare la mano e poi la pietra che è piena di spadate proprio si vede di tagli per le per le mani tagliate dai muratori cioè pensate ai muratori ai muratori cioè pazzo in culo proprio no cioè tutto questo per il favore degli dei pensa se tu potessi tagliare le mani a chi t'ha fatto il cable management di questo posto l'ho fatto io ok bimbi siamo giunti alla fine del format e della giornata oggi di stream io ti ringrazio fede veramente di cuore per esserti reso disponibile è stato divertente a questa follia ci ho messo un po' a convincerti alla fine ce l'abbiamo fatta vedi bene che è uscita una bella roba anche tanti ragazzi mi hanno sempre detto che gli è sempre piaciuto è una roba bella cosa importantissima ragazzi veramente ve lo chiedo con il cuore se potete scaricate il libro comprate il libro di fede in versione al momento per ora kindle poi ci sarà anche la versione fisica più avanti costa due spiccioli lasciate la recensione è importante non per i soldi è importante per una lunga serie di cose di dinamiche che avremo forse un giorno modo di parlare sicuro che a me personalmente ha fatto molto più piacere vedere comunque persone interessate e attive ad ascoltare queste cazzate comunque a parlarne e tutto il resto perché non credevo francamente per questo era un po' reticente quando Davide me l'ha proposto è stato divertente dico la verità perché comunque non l'avevo mai fatto cioè quindi non sono una persona molto social da questo punto di vista però il vero ringraziamento va a voi comunque che siete tutti i giorni qui a supportare anche l'orsacchiotto non vi preoccupate che questo ragazzone a parte quando si giova insieme a Warzone quando non mi gosta per giocare a Warzone lo rivedrete fra un po' di tempo spero in un format nuovo per me sarà tanta tanta roba ma richiede molto tempo molta dedizione molta organizzazione ma vi giuro che lo faremo detto questo grazie ancora a Fede grazie a tutti voi bimbi di essere stati qui fate a modo buonanotte ciao ragazzi buonanotte ho detto va bene